Il Governo assume iniziative urgenti per garantire la piena operatività dell'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, che versa in una situazione di caos che rischia di diventare irrecuperabile e portare al collasso il sistema scolastico regionale. E quanto afferma il deputato di Fratelli d'Italia Vandaferro, che ha rivolto un'interrogazione al Ministro dell'Istruzione dopo la denuncia dell'assessore regionale calabrese Sandra Savaglio, che ha stigmatizzato la mancanza di interlocuzione tra la Regione e l'USR, definendo la scuola in Calabria come una nave senza timone. Una situazione di stallo particolarmente grave, evidenzia Vandaferro, se si considerano i vari progetti in attesa di partire con il nuovo anno scolastico, scosso da un lungo periodo di emergenza sanitaria e sociale, come ad esempio il protocollo per il sistema integrato 06, le linee pedagogiche destinate ai più piccoli, le linee generali DSA oppure le azioni a favore delle famiglie con presenza di minori con bisogni educativi speciali. La grave crisi sociosanitaria in corso ha evidenziato, al resto ancora più gravi, le criticità e i problemi già esistenti, a cui sono seguiti gli ultimi eventi emersi a seguito dell'inchiesta della Procura di Vibo Valencia, che hanno colpito duramente l'immagine dell'amministrazione scolastica, incidendo inoltre in maniera pesante sul funzionamento e l'organizzazione dell'ufficio scolastico regionale in tutte le sue articolazioni territoriali, con il rischio di compromettere pesantemente il regolare avvio del prossimo anno scolastico. Il Governo deve assumere interventi urgenti, conclude Vandaferro, volti a garantire una sana ed efficace amministrazione.